bottone attenti ragazzi la guerra è guerra vediamo se avete studiato e allora prendiamo possesso di un calarmato nel momento in cui entriamo nel calarmato la cosa più importante quale chi lo sa in un calarmato la cosa più importante qual è cotonare se sta il carburante non è la cosa più importante il cannone signore non è questa la cosa più importante le munizioni signore no la radio vice trasmittente queste sono cose importanti ma realmente la cosa più importante qual è come andare posso rispondere io secondo me la cosa più importante e non scorreggiare avete capito vai fuori lo fai